Andrea, oh, ma hai visto cosa ci ha mandato oggi Mark Carter? No, che figlio, questo albero di Natale è una cosa pazzesca, lui vive in Piemonte, vicino a Torino, lui vive a Collegno, però questo è il centro commerciale di Grugliasco, bellissimo, sono ben organizzati, oh, mitico, toga questa cosa, ce l'ha, Grazie a tutti Ahi, Mark ci ha mandato anche le foto di Rivoli, Ahi, un altro paese vicino a Torino, troppo d'ogu, dai Marco, troppo bellina questa foto, alla grande, grazie, Sono fichissime Oh, però, oh, toga questa cosa che vediamo, gli addobbi natalizi, tutte le città d'Italia, ce li mandano i nostri amici, che cosa figlia, è bellissimo, cioè, oh, continuate a mandarcele, perché è una cosa troppo, troppo bella, ci fa piacere, Noi le facciamo vedere a tutti, Sì, noi le facciamo vedere a tutti, poi è come essere un po' vicini a tutti quanti, anche se siamo allontani, Ciao, Mark, grazie, oh, Mark è topo topo, se fosse qui farebbe video insieme a noi, Mark, ti facciamo tanti auguri di buon Natale, Grazie, grazie, ciao, 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 ciao Grazie a tutti.